Malpensa delivery, buonasera, aeroservice 381 stand 753 with information Foxtrot, request IFR clearance to Vienna aeroservice 381 Malpensa delivery, good evening aeroservice 381, you are clear to destination Vienna Runway New Street, 5 left via IRCAD 5 Tango, OSCOR 7 Yankee, initial climb 5000 feet aeroservice 381 è corretto Spock 0 4 7 5 0 4 7 5 on the box, rooservice 331 0 4, ehm, sorry, aeroservice 381, you can counter ground 1 to 1 decimal 9 e, ehm, buon polo senza witcher Ah ha, ah, sei tu, sei Ah 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 Grazie, grazie mille Ground 1 to 19 e spero che non me l'hai bufata che me lo becco a Vienna Ciao In quel caso anche un missile su un 377-900 può essere utilizzato esatto, grazie, ciao, buona serata buona serata, ciao buona serata, ciao buona serata, ciao buona serata, buona serata, servizio 381, stand 753, ready for start-up servizio 381, before the start-up, the delivery, give you the 354 left to take off we have runway 354 left from delivery, service 381 service 381, please go again on the delivery frequency and request the runway 354 right for departure, for request of the tower Roger, so we go again 120 point liner to delivery for runway 354 right clearance, see you later service 381 malpensa delivery ancora, service 381, la ground mi ha fatto tornare da lei perché la tower richiede una partenza 355 right, quindi attendo un'altra clearance service 381, adesso arrivo, sì c'è stata una piccola incomprensione perché mi avevano autorizzato entrambe le piste in realtà vogliono la 355 di destra ma già sono pronto a copiare quando vuole service 381, siete di nuovo autorizzati a Vienna, pista 35 di destra, partenza iniziale saranno 5 Sierra, transizione Oscar 5 Quebec e salita iniziale 4000 piedi, lo spot rimane lo stesso malpensa delivery, service 381, siamo iniziali per 5 Sierra, vi richiesto 5 Mike perché Boeing 739 è una categoria Delta, non Charlie, quindi penso che la 5 Sierra è solo per la categoria Charlie Aircraft, quindi vi richiesto Rono 5 Mike, service 381 service 381, Saranno 5 Mike è approvata, ma ho un problema in mio programma perché non vedo anche sui' come operazione dranniôle , non vedo lo stesso, quello che voglio vedere che ha trovato, cosa neve? 2 6 3 4 4 4 Initial Climbers 4000 Temo che Si è semplicemente cambiato il nome Nel senso che Appunto qua me la segnala come Paltierra è l'unica Appunto da Saronno Che parte con salita di 4.000 piedi Quindi deve essere la stessa No perché se guardi adesso Sulle carte L'ultimo c'è sia la 5 Mike Che è la 5CR Sono poco diverse Ma la 5CR è solo per Categoriciarle Ok Grazie mille per l'informazione Adesso vado a recuperare queste carte Figurati Aeroservice 381 Potete passare con la Ground E la frequenza 121900 Ground 1219 Aeroservice 381 Ciao Allora Sì. Molpesa Ground, AeroService Strait 1, di nuovo con te, con la scelta per 3-5-Rite da deliveri, e siamo pronti per la start-up AeroService Strait 1. Gari detta la Cooperazione Strait 1, di ancora lema e la provanda P Quello invarianti per filmo Air Wings 83, a3 Mike, conf oro, di poi si serve più oggile reali AeroService Strait 1, di ancora lema e lema e la citata, peggno Grazie. 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 Malpesa Ground, Aeroservice 3H1, ready for taxi. Aeroservice 3H1, taxi to holding point, Charlie Alfa, runway 35, right via Yankee, Charlie Hotel in Charlie Alfa. And please repeat, to Charlie Alfa via hotel and before hotel is Kilo and... Your taxi is Yankee Hotel, Charlie Hotel in Charlie Alfa. Yes, but we have... You're on 10th Kilo. Yes, we have Kilo because from 753 we have to taxi straight ahead to Kilo Aeroservice 3H1. It's not a pushback stand. It's not a pushback. Roger. Well, taxi to gate to holding point, Charlie Alfa runway 35, right via Kilo Zulu Yankee Hotel, Charlie Hotel in Charlie Alfa. Roger. Charlie Alfa 3H1 via Kilo Zulu Yankee Hotel, Charlie Charlie Alfa at Aeroservice 3H1, thank you. Non preoccupare dell'arrista Alfa salto il tempo. Scusami per il casino, ma è successo tutto... Ora colpo di no, perchè non sono ti dimenticato che quegli stand sono un'pushball, ma prima, purtroppo, il Delivery ha capito male l'AdTIS della Torre, è sbagliato le s'uptwавать, un po' a a tutti. So, quanto io ho dei traffici sulle taxiway che non ho io in canale, per sembra quanto. Non ti preoccupare, non c'è il minimo problema Roger, Arrovings, 823, Mike, stand by for the clearance Roger, Arrovings, 1LIMA-LIMA, confonding e you can't contact this delivery So request any information about departure today from 3FLA, right please Un lima lima, il tuo cuore è 05 tango con un haosta, è il Wifi, inizial climb 5600. Inizial climb 5600, e altre informazioni prese, e il tuo cuore è il lima lima, per favore. Il tuo standard è 05 tango con un haosta, è il Wifi. Non so, ho chiesto per la tua, per favore, il tuo ring è il lima lima. No problem, un momento, ho dato il clare e del Mice, il il ring è il CMI. Il ring è il CMI, tu sei il clare e del FKD, in Anshon, via Zago per 5 tango, with half of the 8 whiskey, initial climb is 5,000 feet. During safe remite, we equipped Baila 5 tango, hours per 8 whiskey, initial climb 5,000 during safe remite. The wings 1 lima lima, so we got information, the dog was 5 tango, hours of 8 whiskey, 355, and we are ready for departure, wings 1 lima lima. Yeah, thank you so much for the pass here, wings 1 lima lima. Air wings 1 lima lima cost, now time to tower on 128.350, bye bye. Sorry for the delivery mistake. No problem, 128.350 with tower, air wings 1 lima lima. Air wings 8, reeing mic, ready for departure. Allowing 8, 3 Mike, contact Tower on 128.350, bye bye, sorry for delivery's mistakes Contacting Tower, thanks for service, good evening, 3 Mike Good evening, good evening, everything good, luckily none A lot of things, well, here's the Jerseybrook traceweroo, good evening Well, as I put up all this weather there, everyone gets ready to click on it Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. V1. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.